Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignone. La situazione in A1 in direzione Bologna, coda tra Firenze in Pluneta e Firenze Scandici, coda per un mezzo in fiamme tra Firenze Scandici e Firenze Nord, coda a Firenze Scandici in entrambe le direzioni per viabilità esterna molto rallentata. Verso sud coda tra il BV A1 variante e Firenze Scandici, in A11 in direzione Pisa coda per traffico tra Firenze Ovest e Prato Ovest. Coda in uscita Firenze Peretola provenendo da Pisa e a Prato Ovest provenendo da Firenze. In Fipilì in viaggio verso Livorno coda tra il viadotto all'Indiano e la Strassigna per un mezzo fermo al chilometro 4 e 200. Coda a tratti verso Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandici per viabilità esterna che non riceve. Sulla rilamazione per Pisa coda in uscita a Cascina provenendo da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!